Evita è un progetto che nasce nel gennaio del 2021 e vede il coinvolgimento di partner europei e giapponesi per la costruzione di un allenatore virtuale, un coach che aiuti le persone anziane in diverse attività come rimanere allenate, fare attività cognitive e rimanere incluse nella società attorno a loro. L'IRCA svolge un ruolo di primo piano all'interno del Consorzio Europeo-Giapponese ed è responsabile della sperimentazione che tra poco partirà all'interno del nostro istituto e vedrà il coinvolgimento delle persone anziane, dei familiari e degli operatori sanitari nel testare il nuovo dispositivo, il nuovo coach virtuale direttamente a casa loro o in istituto.